1. La mia camera 2. Il suo amico 3. La sua casa 4. Il tuo padre 5. Il tuo letto 6. La loro madre 7. La tua amica 8. Il suo nome 9. I miei libri 10. Le loro case 11. Le nostre penne a sfera 12. Le vostre sedie 10. Le vostre sedie 10. Le vostre sedie 10. Le vostre sedie Grazie a tutti.